Ciao ragazze, la mia review di oggi sarà sui Liquid Tech Lip Color di Nabla una nuova linea che è appena uscita, appena da pochi mesi e il cui direttore artistico è un mio amico, Mr. Daniel Makeup e i colori usciti sono 8, io ne ho 5, il prezzo è di 11,50€, ve li faccio vedere Amore Psyche, 90s, Blossom Dance, Retro Red, Celebrity e poi subito dopo, io preferisco metterla dopo, metto la matita trasparente questi quindi erano i colori, come potete vedere sono super pigmentati sono liquidi, però questi sono un liquido comunque molto appiccicoso quindi tendono ad essere quasi come una vernice perché voi le mettete e dopo un po', nonostante siano liquidi, si fissano abbastanza però senza dare un effetto troppo secco sulle labbra, quindi è una cosa molto positiva non creano tutte le pellicine schiposine che fanno tante volte rossetti liquidi e quando vengono via, vengono via abbastanza gradualmente lasciando sotto quasi una tinta, quindi non è quell'effetto brutto carta impecorita che ogni tanto vedi delle crosticine sulle labbra e un pezzo staccato, no alcuni colori non mi piacciono, ad esempio quello che non metto mai, 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 mai è quello che sto su adesso, perché non mi sta bene perché comunque, anche se ci metto la matita trasparente tende lo stesso un pochino ad andarmi nelle pieghe non una cosa troppo grave però a me non piace mentre quelli che mi piacciono di più, quelli che metto sono, beh, se mi conoscete lo sapete, indovina, indovinello quali saranno mai? gioca con noi, rosa e rosino l'uno e il tre quindi cherry blossom e amore psiche sono i miei due preferiti perché comunque sono quelli più portabili per quanto mi riguarda e sono quelli che non si vede se vanno un po' in giro a sbavare vengono comunque con una matita in omaggio una matita trasparente di cera in modo da, appunto, non avere questo effetto clown però, appunto, se avete tanti, tanti problemi tante, tante, tante rughette tendono comunque ad andare un po' nelle rughette vi avverto il mio voto, quindi, per questo prodotto è trullo di tamburi sette e mezzo gli do sette e mezzo perché a me sono piaciuti resta comunque il problema che vanno nelle pieghe nonostante anche molto spesso io metta la matita trasparente perché essendo comunque liquidi c'è questo problema però sono veramente belli sono molto comodi si dice comodi sulle labbra non so se si dice comodi comunque, non li sentite quasi neanche non danno pastito non sono pesanti non sentite una cosa anzi, sembra quasi non averli su è veramente un buon prodotto ovviamente, cioè essendo liquido un po' nelle pieghe va ciao bellezze